ciao allora questo è un video per mostrarvi lo swap che ho ricevuto da Emanuela mi ero iscritta appunto allo swap nel gruppo di facebook per linee dal mondo ed era uno swap che ha indetto jessica che la ringrazio oltretutto per la possibilità di questi scambi tra noi creative ed era appunto uno swap estivo organizzato per l'estate che verrà e la mia swappina appunto era Emanuela sotto metto il link al suo canale di youtube ed è una ragazza veramente dolce io seguivo già appunto i video che pubblicava e mi è sempre piaciuta allora adesso passo a mostrarvi quello che ho ricevuto allora beh innanzitutto questa è la letterina che mi ha scritto e guardate che carino la foto dove ha scritto poi sopra per linee dal mondo che appunto gruppo di facebook e swap d'estate è un biglietto fatto sicuramente da lei richiama appunto il tema della dello swap indetto da jessica ed è veramente veramente bello e poi mi ha scritto delle parole veramente dolci e veramente la ringrazio con tutto il mio cuore passiamo per prima cosa a mostrare il materiale che mi ha mandato allora mi ha mandato queste perle che sono bellissime di questo azzurro con satinato io poi veramente le adoro le ho viste da qualche parte in un'altra tonalità forse sul lilla e già mi piacevano adesso io le ho appunto azzurre e sono carine diciamo che rispetto a quello che vedete voi sono tendendo un po più al verde verde acqua ecco però sono veramente veramente belle e queste sono delle coppette color oro che oltretutto quando sono andata a roma ne ho comprate tantissime di coppette ma nessuna color oro e quindi mi servono poi veramente ne ho prese un po oltretutto le ho anche già finite quando sono andata a pietra e da macca e le ho messe ovunque quindi mi sono innamorata delle coppette di tutte le dimensioni di tutti i tipi di tutti i colori quindi la ringrazio perché è veramente un regalo gradito poi c'era questo sacchetto che conteneva allora innanzitutto questi cartellini per mettere il prezzo o nelle creazioni insomma comunque dei codici se si espongono in qualche parte appunto che non è possibile scrivere proprio quanto costano poi questi distanziali qui entrano per un'altra forma di fiorellino e sono veramente belle poi mi sono innamorata della minuteria da quando sono andata a roma per cui guardate io oltretutto l'ho già finita e mi mangio le unghie ecco non le mani e quindi vabbè questi anellini che sono veramente belle sono fatte tipo spirale quindi non le avevo di questo tipo qui quindi veramente grazie queste filigrane ragazzi che sono la fine del mondo guardate spero di fare al più presto qualcosa con queste qui perché sono veramente divine bellissime grazie ancora poi queste ali per fare gli angioletti che per natale sicuramente ne creerò qualcuno quindi ho già le ali per quello che farò poi comunque mostrerò tutto queste basi qui per anello che sono sempre gratuitissime e hanno appunto la piattina bella larga quindi si può incollare di tutto e poi questi bellissimi la scusate ma io con una mano fili di mezze cristalli che veramente sono a parte che sono lunghissime ne contengono veramente tante e sono veramente belli di questo azzurro qui ma è luminoso ma luminoso che non ne avete un'idea e di questo bianco opal che è veramente bellissimo poi i cipollotti quali trovo veramente veramente poco e quelli che trovo costano veramente una fucilata per cui grazie grazie Emanuela veramente e poi questi cubetti che seguiva sicuramente poi il tutorial di Valentina per rivestirli e se non ricordo male li ha presi li ha fatti lei nel senso che aveva preso al brico un del legno quindi un bel pezzo di legno e li aveva misurati e tagliati lei e aveva creato tantissimi di questi cubetti quindi guarda sono graditissimi quante volte li ho ripetuto graditissimi vabbè comunque solo per rendere l'idea di quanto comunque mi hai fatto contenta per l'invio di tutto questo materiale di questi pensieri che mi hai mandato allora che cosa mi ha fatto adesso ve lo mostro innanzitutto voglio dire che è stata comunque attentissima perché tra tutte le cose che sperimento io non ho mai fatto nulla con la chain mail e quindi ha voluto crearmi una creazione utilizzando questa tecnica appunto sapendo che io non non faccio nulla allora passiamo con il braccialetto guardate io spero che la mio iphone riprenda la bellezza di questo braccialetto di questi colori utilizzati mi ha detto che ha utilizzato appunto i colori delle tonalità sull'azzurro sull'oro appunto perché ricordano l'estate ricordano il mare ed è veramente bellissimo 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 veramente poi con questa chiusura che sicuramente avrà fatto lei mamma come ti invidio perché vorrei tanto imparare a fare monachelle o che cosa fate da me ma per ora è una cosa alla volta sto già cercando di imparare tantissime cose e spero di riuscire nei migliori dei modi ecco l'ultima è la resina visto che ti ho mandato appunto i cabochon allora bello la creazione insieme al braccialetto che mi ha fatto e non riuscirò a mostrarla sicuramente sono innanzitutto questi orecchini che richiamano le perle che mi ha mandato il bracciale e questa collana lunghissima è veramente bella che ha le stesse diciamo lo stesso motivo del bracciale in laterale a questa bella pietra di vetro è simile a quelle di murano veramente bella ed è favolosa poi lei è stata carinissima che non sapendo i miei gusti se mi piacevano corte o lunghe mi ha anche detto eventualmente te la regoli te e questa è la chiusura veramente grazie 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 io ho apprezzato tutto quello che mi hai fatto e non è la quantità è comunque la qualità di quello che uno invia e comunque anzi neanche non è neanche la qualità è il cuore che uno ci mette per preparare uno potrebbe essere anche una cosa banale però se lo prepara col cuore è più che gratitissimo almeno io la penso così niente io con questo è tutto a più presto un video di creazioni ho già girato alcune cose però o le ho cancellate o le ho perse o la connessione valenta ok insomma non è proprio il mio periodo niente spero di pubblicare a più presto qualcosa prima che vado al mare io parto il 17 per una settimana quindi insomma vorrei mostrarvi qualcosina e ho diverse idee ecco io niente vi mando un bacio ringrazio ancora la mia sua pina Emanuela se è stata davvero carina e niente ciao un bacio a tutte ciao ciao